Ben ritrovati alla terza pagina, questa sera Mantua Segreta torna ad accompagnarci dentro l'archivio di Stato di Mantua, la ricerca di documenti antichi sulle epidemie passate. Oggi torniamo all'interno della sagrestia della Chiesa della Trinità nell'archivio di Stato e torniamo a raccontarvi la storia delle epidemie del passato e torniamo proprio in quel 1630 dove la città sta per subire il sacco dei Lanzichenecchi, ma la peste è già arrivata in città e provate a pensare cosa pensa di fare il Gonzaga, ebbene pensa di scrivere un bel DPCM che fa sempre bene. E allora non perdetevi la puntata di questa sera, salite con noi sulla macchina del tempo per fare un viaggio al tempo delle antiche epidemie, quindi se volete seguiteci!